Plessi scolastici con laboratori e classi inadeguate, edifici storici altamente energivoli e con problemi di accessibilità, ma anche trasporto pubblico con corse che saltano e gli investimenti necessari. Queste sono alcune delle criticità e delle proposte presentate dai 50 studenti fra rappresentanti di istituto, della consulta provinciale e del Parlamento degli studenti che hanno partecipato a Lucca all'undicesima e ultima tappa del tour Siete Presente. Il percorso di partecipazione su trasporti ed edilizia scolastica di Giovanni Sì e Regione Toscana. La nostra scuola è una piccola realtà, un paradiso verde in un certo senso. Ovviamente l'unica cosa che evidenziamo è il trasporto, in quanto il Covid ha manifestato, è stato uno spartiacco e quindi ha evidenziato i problemi che sono venuti a galla con il distanziamento. E poi per quanto riguarda anche le classi nella nostra scuola, in quanto essendo una piccola realtà abbiamo classi che si sdoppiano, quindi vari indirizzi che sono accorpati insieme e quindi mancano le aule a disposizione per i vari corsi, per i vari settori. Ho segnalato anche una poca accessibilità dei trasporti per persone con disabilità per l'appunto. Io in particolare ho presentato il problema dei bus che molto spesso hanno pedane manuali, quindi non automatiche, e una persona in carrozzina che si presenta a prendere il bus per l'appunto può provocare, non per sua scelta ovviamente, anche ritardi importanti nella linea del bus perché non sono propriamente preparati ad accogliere persone con disabilità motorie, come per appunto una persona in carrozzina. È un primo passo importante, ma non deve essere l'unico, deve essere un passo importante per un dialogo che sia continuativo, che sia dunque l'inizio per esempio delle istituzioni di tavole di concertazione, di tavole di lavoro con Regione, ma in particolare con la provincia che è quella che effettivamente ha più responsabilità per quanto riguarda i temi dell'edilizia scolastica. E quindi sì, è un passo importante, ma non deve essere l'unico. Ed è proprio a partire dal punto di vista degli studenti di 16 istituti superiore della provincia di Lucca, dalle loro richieste e domande, cosa funziona e cosa può essere migliorato, che è stato possibile creare un dialogo con gli amministratori e i funzionari di Regione Toscana e della provincia di Lucca, presenti nella sala del trono di Palazzo Ducale. Sono state 11 le tappe che Giovanni Sia e la Regione hanno fatto in tutta la Toscana per permettere ai propri giovani di raccontare le problematiche che vivono. Hanno potuto conoscere istituzioni che hanno chiesto le istituzioni a loro di raccontare i problemi. Quindi vogliamo far vedere che la Regione sta tra la sua generazione, tra i suoi giovani, e sta lì per cercare di risolvere le problematiche che purtroppo viviamo da troppi anni. E noi crediamo che ripartendo dalla concretezza possiamo anche riavvicinare i giovani alla politica, i giovani alle istituzioni. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le democrazie, e non lo si può fare soltanto con i massimi sistemi, ma lo si deve fare ripartendo da quelle che sono le cose concrete che loro vivono per 5 anni all'interno delle scuole superiori. Oltre all'ascolto di studenti e studentesse, l'incontro ha già portato ad un altro cruciale passo in avanti in questo percorso di miglioramento della scuola e del trasporto pubblico. A Lucca nasce un tavolo di lavoro con le studentesse e gli studenti per tenere aperto un confronto permanente su queste tematiche. Temi centrali, temi della quotidianità, l'edilizia scolastica, piuttosto che il trasporto pubblico, ma poi diventa anche un confronto a 360 gradi su tutti gli aspetti, a partire da un programma, che è quello di Giovani Sì, che dà veramente moltissime opportunità ai giovani, che quindi deve essere conosciuto e deve essere un'occasione di crescita, di crescita nelle opportunità, di crescita nel confronto con le istituzioni. Ed è per questo che pensiamo anche ad una struttura solida e continuativa di confronto per fare in modo che appunto il contributo dei ragazzi sia un contributo importante anche per chi verrà dopo nella scuola, per fare in modo di avere scuole sicure, scuole belle, ma scuole appunto anche accoglienti e gradevoli.